Siamo davvero molto felici di poter festeggiare un doppio appuntamento, ma vi chiediamo anche agli amici fotografi e giornalisti cortesemente di sedervi, ben arrivati, benvenuti, siamo onoratissimi, particolarmente gioiosi, lo sentite, che invito qui con noi. C'è un ospite eccezionale che prima dell'inizio della proiezione di un film che ricordiamo è stato fortemente voluto e sostenuto appunto da... Questo film è dedicato a lui perché è una decisione viva. Questo è un sogno, questa vera, per tanti di noi, la prima di un film veramente straordinaria. è fondamentale, è stata un'accoglienza... Grazie a tutti!